Maria De Filippi rompe il silenzio riguardo al ritiro di Miu e Matteo da Amici. Dopo che le foto di Miu e Matteo che passeggiavano per le strade di Roma hanno sollevato interrogativi, il produttore di Amici è intervenuto per confermare il loro ritiro dalle scene. Mentre circolavano voci strane sulla presunta gravidanza, la persona coinvolta le ha smentite. In seguito, Maria De Filippi è intervenuta per spiegare la natura del motivo per cui i due ragazzi hanno abbandonato il talent show. Maria De Filippi su Miu e Matteo Per motivi personali Durante la recente registrazione di Amici, la conduttrice ha informato il pubblico che Miu e Matteo hanno deciso di lasciare il programma per motivi personali. Una ragazza presente tra il pubblico ha riassunto la situazione dicendo, all'inizio della puntata, ha spiegato molto velocemente la situazione. Ha detto che se ne sono andati per questioni personali, estranei alle decisioni e alle questioni private di entrambi. Dopodiché, non ha aggiunto altro. La stessa versione è stata riportata dal portale Superguida TV. Riguardo alla partenza di Miu e Matteo La conduttrice ha confermato quanto detto dai produttori, ovvero che se ne sono andati per motivi personali, senza aggiungere ulteriori dettagli. Maria De Filippi non si è addentrata molto nei dettagli, e sarà difficile ottenere ulteriori informazioni, almeno durante lo spettacolo. Potrebbe darsi che nei prossimi giorni uno tra Matteo o Miu decida di rivelare il motivo del ritiro tramite un discorso su Instagram o una storia. Al momento, il portale Mandem è in pausa. I bambini tra il pubblico hanno anche notato che alcuni tavoli sono stati spostati dopo il debutto di Miu e Matteo, anche la disposizione delle postazioni è cambiata. Alcuni tavoli sono stati spostati dopo la partenza di Miu e Matteo. Tuttavia, nell'episodio, oltre al conduttore, nessuno ha fornito ulteriori dettagli sulla loro uscita o sul motivo del loro ritiro.